Il gol è giusto per tutti qui a gara, riesce subito a rinforci in casa e ad avere subito uno scatto e puntante di gara, dei valori, dei valori che non si vede. In questo momento godiamoci questa grandissima vittoria, godiamoci questa vittoria del gruppo, della società, di tutti quelli che ci hanno dato una mano nell'uscire ad arrivare a questo risultato forse anche inaspettato e poi quello che sarà domani non ci importa, godiamoci le passate. Forse sì, forse mi sento più responsabile, no? Perché comunque gli anni passano, i ragazzi di, devo dire la verità, si sono affidati, ma non solo a me, a tutti i senatori del gruppo, perché i vari tuoi, i vari fermati, i vari coda, i vari capi, se diventino qualcuno mi sapranno scusare perché sanno che la considerazione è massima Devo dire che è la vittoria del gruppo, la vittoria del gruppo che ha saputo lottare e ha saputo truivire quando doveva truivare, sempre rimanendo per il gruppo.